Gli alleati migliori per vivere una vita sana e sostenibile? I frigoriferi combinati dal libero posizionamento Bosch, un mix di tecnologie per fare il pieno di freschezza ogni giorno. Sei curioso di sapere come? Continua a guardare il video e scopri tutte le caratteristiche. Con la tecnologia VitaFresh hai a disposizione due cassetti separati per conservare più a lungo i tuoi alimenti. Un cassetto è dedicato alla conservazione di carne e pesce con una temperatura più bassa, mentre l'altro, con una temperatura ottimizzata, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo. Inoltre, grazie alla parete posteriore Metal Black con Multi Air Flow, l'umidità e la temperatura sono distribuite uniformemente in tutta l'area di raffreddamento, dai balconcini della porta agli angoli posteriori. Ma non è finita qui! Con Flex Interior potrai conservare il cibo in maniera ben organizzata, con una grande varietà di opzioni flessibili. Ampi spazi, ripiani e balconcini regolabili sono infatti la soluzione perfetta per organizzare i tuoi alimenti. Ti stai domandando se le sue dimensioni possono essere un problema, vero? Da oggi con Bosch non dovrai più preoccuparti di lasciare 10 cm di distanza tra il muro e il tuo frigorifero. Con Perfect Fit il tuo frigorifero può essere collocato direttamente contro pareti e mobili senza bisogno di ulteriore spazio. L'illuminazione LED ad intensità crescente emette una luce brillante, uniforme e non abbagliante e ti permette di trovare rapidamente quello che cerchi. Con i frigoriferi da 70 cm Bosch ogni alimento trova il suo spazio e tu puoi vivere ogni giorno una vita sana e sostenibile. Vuoi saperne di più? Ti aspettiamo nei nostri store e sul sito Bosch. Tante soluzioni per una vita sana e sostenibile con Bosch.